Musica Musica Cari amici, noi siamo appena arrivati qui e stanchi più che mai dopo tanto lungo cammino, circa tre ore e mezzo di cammino dalla Calabria per essere qui ad Agrigento. Ma noi dobbiamo fare un grande ringraziamento soprattutto all'amico che ho qui accanto, al nostro amico Francesco Foti che naturalmente vorrei che facessi anche un piccolo saluto ai nostri amici telespettatori Francesco perché noi vogliamo ringraziarti ufficialmente di quella che è la tua accoglienza che hai offerto a me e a tutta la troupe della Graziano Tomarchio Management nell'accoglienza qui ad Agrigento in occasione della Sagra del Mandorlo in Fiore. Benvenuti ad Agrigento per la Sagra del Mandorlo in Fiore, benvenuti a casa nostra, questa è una nostra casa dal 1820 recuperata e restaurata con tanto amore, voi potrete vedere insomma quello che c'è in questa casa, le terrazze oltre la sala colazione, le stanze, dal 1820 al 2016. Tra poco faremo 200 anni di attività turistica, tra virgolette. Quindi non vi resta altro che se venite ad Agrigento venite a trovare Francesco nel suo B&B, ma ricorda come si chiama il B&B, dai delle indicazioni. Grazie, terrazze di Montelusa, a due passi dalla via principale del centro storico, la via Tenea e grazie a voi per la vostra presenza.